È un'avventura, un bel progetto sull'integrazione che è stato sempre il mio punto fisso e importante perché è solo attraverso l'integrazione che si può essere integrati e anche sull'incontro con le tante comunità, tutte le comunità a prescindere dalla razza, della religione e aprire un dialogo, anche se c'è già, però riaprirlo e anche organizzare dei incontri specifici sul tema proprio integrazione e ragazze e soprattutto le ragazze che hanno abbandonato la scuola dal 2017 fino ad oggi che per me è un grosso problema perché tra qualche anno non so, non sappiamo cosa trovare. Grazie